Presentata stamattina presso il Palazzo Arcivescovile di Taranto l'ottava edizione del Mysterium Festival, la rassegna di eventi che ruotano intorno alla Settimana Santa Tarantina e che accompagnerà la città dal 24 marzo sino al 17 aprile attraverso concerti, installazioni e percorsi tematici. Presenti Piero Romano, direttore artistico dell'orchestra Magna Grecia e del Mysterium Festival e Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. Riprendiamo alla grande anche il Mysterium Festival oltre ai riti della Settimana Santa, proprio perché ho sempre detto che ci sono tre cerchi concentrici per vivere bene la Settimana Santa, il cerchio della liturgia e delle celebrazioni liturgiche a cui partecipano i fedeli tutti quanti, poi i riti, le processioni della Settimana Santa con tutto ciò che rappresenta dal punto di vista della religiosità popolare questo estremo momento di bellezza, di dolore, di dramma particolarmente forte quest'anno per la presenza della guerra e poi ancora il Mysterium Festival che raggiunge tante persone attraverso la cultura, attraverso la musica, attraverso il teatro, la rappresentazione plastica del dramma della vita a cui la musica e l'arte danno una risposta sempre connessi con il mistero della redenzione, della passione morte e resurrezione del Signore. È una ripresa diciamo in grande stile con un programma ricchissimo, perciò è veramente un'opportunità per allargare, per giungere da tutti perché il Mysterium Festival è proprio destinato ad un dialogo con la cultura, con la città, con il nostro territorio. Giù dalla settima edizione con la collaborazione di Orchestra della Magna Grecia e della Chorus ha creato un programma che andrà a declinare il sacro musicalmente in maniera ineccepibile mi sembra perché si passa dalla Misa Buenos Aires di Martin Palmeri alla Nona di Beethoven che chiuderà appunto il festival alla cattedrale il giorno di Pasqua. Questa apertura alla con cattedrale, una chiusura quindi nella città vecchia, nella cattedrale è simbolica, uniamo la città, siamo tutti uniti, tanto è vero che il Mysterium si pone come obiettivo quello di andare ad animare ogni quartiere della città, varie parrocchie, vari angoli della città, vari punti sensibili che vanno valorizzati nel loro patrimonio artistico, nel loro patrimonio architettonico e naturalmente attraverso quella che è una vibrazione straordinaria, quella che naturalmente la città vive nel periodo di Pasqua e nella sua qualesima. Un appuntamento che sicuramente l'Orchestra Magna Grecia e la Chorus sapranno interpretare al meglio ma ci sono tanti appuntamenti come quello di Simone Cristicchi, quello di Anna Ferruzzo al Marta, tra l'altro una straordinaria collaborazione con il Museo archeologico, un bellissimo progetto di pace con Don Emanuele Ferro sulle tre Pasque, quella ostrodossa naturalmente e quella cattolica e quindi un'installazione a questo dedicato, ma veramente tanti tanti appuntamenti che sicuramente sapranno animare una città e soprattutto creare quell'attrattività che nella cultura è sicuramente sempre pregevole.